Grazie a tutti. Sono in Italia da più di 10 anni e sono mamma di due bambini, Matteo e Federico, di 7-5 anni. Per cui conosco benissimo le difficoltà di imparare una seconda lingua e conosco anche molto bene i bambini. Così io e Paola abbiamo pensato di mettere Spider-Man e Barbie al servizio dell'insegnamento e i risultati sono andati ben oltre le nostre aspettative. Infatti, l'English Play Group insegna inglese ai bimbi di Milano per oltre due anni. Siamo presenti in scuole private e pubbliche in tutta la città, offriamo corsi singoli e di gruppo a domicilio e da poco abbiamo aperto anche una nostra sede in zona Porta Romana. Dalle letture animati per i piccolissimi insieme alla nostra mascotte Percy the Owl, ai laboratori di sabato dove creiamo di tutti e di più, ai corsi per imparare Phonex o per avere un aiuto con i compiti d'inglese, abbiamo offerte per tutte le esigenze. Inoltre, quest'anno, oltre ai workshop estivi che teremo nella nostra sede a giugno dopo la chiusura delle scuole, abbiamo organizzato la nostra primo campus in Inghilterra. Siamo in partenza per Malvern, una bellissima cittadina collinare vicino a Birmingham, dove i nostri ragazzi per una settimana parteciperanno ai corsi di La Weiss Primary School e siamo veramente entusiasti di questa esperienza che sicuramente replicheremo negli anni a venire. Inoltre, se hai una mamma che cerca delle attività da fare nel tempo libero, abbiamo anche corsi, e non solo di lingua, per voi. Offriamo corsi di ricamo per imparare a fare il corredino o la sacchettina per l'asilo, facciamo il scrapbooking per aiutarti a riordinare i vostri ricordi, facciamo incontri con la psicologa per imparare a conoscere meglio i nostri complicatissimi figli. Per cui, che dire, vi aspettiamo per un pomeriggio di sicuro divertimento in inglese.